Buongiorno Bibiano ancora, ancora Bibiano ma non per fare un favore a Salvini come qualcuno crede quando si parla di Bibiano, di Salvini non ce ne frega niente, ci interessa invece la vicenda perché rivela una mentalità dichiarata dal sindaco di Bibiano ad esempio tra gli altri, il quale ha detto che un tempo fa ha detto che in Italia c'è ancora troppa fiducia nella famiglia patriarcale, va bene qui io vi riassumo molto brevemente cosa è successo, allora un bambino viene sottratto alla famiglia naturale perché secondo i servizi sociali è stato costretto ad assistere ad atti sessuali tra la madre e il padre, il padre inoltre avrebbe abusato del figlio, questa seconda accusa è già caduta da tempo, adesso è caduta anche l'altra e quindi il bambino potrà far ritorno alla sua famiglia naturale, vi leggo un piccolo passo dell'articolo, per il caso del bambino sono stati indagati a vario titolo, falsità ideologica, violenza privata, frode processuale, falsa perizia, diverse figure confluite nell'indagine Angeli e Demoni, Anghinolfi, Gibertini, Monopoli e la psicoterapeuta di Torino Nadia Bolognini accusata anche di essersi travestita da lupo cattivo davanti al piccolo associandolo al padre, Monopoli poi avrebbe diciamo tramato per convincere che i giudici, che cosa che assolutamente non avrebbe potuto fare, che tutto andava bene e che il bambino nella nuova famiglia stava finalmente rifiorendo e però appunto salta fuori che il reato non esiste e addirittura l'accusa rivolta ai due genitori naturali è stata archiviata. Noi vi diamo la notizia come l'abbiamo letta sul resto del Carlino e speriamo che questo in qualche modo possa essere utile. Molti dicono che le luci sulla vicenda di Bibiano sono destinate a spegnersi perché al governo ci sono il Partito Democratico e i Cinque Stelle, noi crediamo e speriamo che non sia così, nell'incertezza tutte le volte che troveremo una notizia su Bibiano come promesso ve ne daremo conto.